E' 3D doppia 50 Su per 2 ampia 140 30 Sinistra 5 Su dosso Vai 20 Dosso vai 10 Piante sinistra 1 chiude Si Piante sinistra 1 chiude Si Piante sinistra 1 chiude 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 2 chiude 1 chiude subito sforco sinistra in destra 2 meno per sinistra 2 meno taglia 100 almonari sinistra 4 più subito destra 5 meno diventa 4 tieni 60 ritarda poco sotto sinistra 4 più gira gira 100 almonari stai alto dopo punti rotaie top black inverti una destra 300 no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I vincitori e adesso Simone Campanelli, Daniel Cantone, vanno a vincere il 55esimo relli del Salento. Grazie a tutti.